il legaccio è alternato alla maglia rasata per creare questo motivo di piccoli rettangoli disposti a scacchiera chiamato punto scacchi con legaccio è lavorato sul numero di maglie multiplo di 10 più una maglia e si ripete ogni 10 ferri per il primo ferro lavora 3 maglie a diritto poi ripeti 5 maglie a rovescio e 5 maglie a diritto fino alle ultime 8 maglie lavora 5 maglie a rovescio e termina con 3 maglie a diritto lavora a rovescio il seguente ferro e ripeti questi due ferri un'altra volta lavora il quinto ferro come il primo ferro nel sesto ferro sul rovescio del lavoro i rettangolini vengono scambiati per ottenere il motivo a scacchi perciò questo ferro viene eseguito come il primo ferro nel seguente modo lavora a diritto le prime 3 maglie poi ripeti 5 maglie a rovescio e 5 maglie a diritto fino alle ultime 8 maglie lavora 5 maglie a rovescio e termina con 3 maglie a diritto lavora a diritto il seguente ferro e ripeti questi due ferri un'altra volta lavora il decimo ferro come il sesto ferro ripeti questi 10 ferri per proseguire il motivo del punto lavora il cuore il cuore del 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 cuore Grazie a tutti